Ancora una settimana, poco più. Il 29 luglio è l'ultimo giorno utile per inviare alla Coviso con la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C per il Palermo di Dario Mirri e Toni di Piazza. Carte in regola c'è tutto tranne lo stadio perché la discussione non è ancora approdata in consiglio comunale dal quale dipende esclusivamente la stesura e approvazione del nuovo contratto di concessione dell'impianto. Il nodo è sempre quello, il canone concessorio, quello che potremmo definire affitto, calcolato in 341.150 euro, è ritenuto eccessivo dalla società. Sia perché con ogni probabilità non si potranno riempire gli spalti, sia soprattutto perché una somma così elevata non tiene evidentemente conto né della categoria né del fatturato del nuovo Palermo. È dunque in fase di elaborazione un sistema che consentirebbe al Club Rosanero di pagare circa la metà della cifra determinata dagli uffici tecnici del comune. La compensazione potrebbe arrivare attraverso Radio Manon tramite la sponsorizzazione della città di Palermo. Nella giornata di domani dovrebbero arrivare novità importanti, se non decisive. In programma a Palazzo delle Aquile la discussione sulla nuova concessione, che avrà una durata di sei anni, alla quale parteciperà anche il sindaco Leo Luca Orlando, il quale, se non si dovesse arrivare ad una soluzione in tempi utili, ha confermato di essere pronto a firmare un nulla osta perché, in attesa della nuova convenzione, il Palermo possa comunque giocare al Renzo Barbera. Grazie a tutti.